E' stato arrestato per spaccio dopo essere stato trovato in treno con circa 300 grammi di hashish dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti. L'uomo di 51 anni, originario di Ortona, durante un'operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, durante la perquisizione sarebbe stato trovato con tre panetti di hashish occultati all'interno del suo zaino. Le fiamme gialle hanno accompagnato l'uomo fino al domicilio, sequestrando anche un bilancino di precisione e un coltellino utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente insieme ad altri strumenti idonei alla lavorazione. Il soggetto è stato sottoposto a giudizio direttissimo con l'applicazione della misura catelare d'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, durante gli accertamenti, è stato rilevato che l'uomo fosse percettore di reddito di cittadinanza, perciò segnalato all'Inps per la sospensione dell'erogazione del beneficio. Il colonnello Michele Iadarola, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, evidenzia la necessità del contrasto alla diffusione al consumo di sostanze stupefacenti, in particolar modo durante la stagione estiva, periodo in cui il territorio abruzzese diventa metà ambita da parte di turisti, soprattutto giovani.